Allora, sempre l'amicizia si rivela un elemento importantissimo, fondamentale delle nostre vite, tanto più in questo periodo, in questo periodo in cui siamo isolati, in cui la solitudine si fa più forte. Allora, questa sera vogliamo fare un focus sull'amicizia dal punto di vista delle sue basi neurologiche, dei meccanismi che la regolano. Per farlo abbiamo invitato ancora una volta Piero Barbanti, primario neurologo dell'Istituto San Raffaele Pisana di Roma. Ciao Piero, un piacere averti qui ancora una volta. Allora, andiamo subito nel vivo del nostro argomento. Intanto, che cosa rappresenta l'amicizia? È il fattore unico in grado nella specie umana di dare salute e felicità. Noi pensiamo che l'amicizia nasca nel cuore. In realtà l'amicizia correla con la quantità di sviluppo di neuroni della nostra corteccia frontale, quella che ci differenzia dagli animali, quella del ragionamento. Quindi una scelta ragionata ma affettiva. Cominciamo a fare gli amici tra i tre e gli otto anni. Ma chi è l'amico? L'amico è difficile definire. È una affiliazione tra persone che non hanno interessi riproduttivi. I fattori che servono per essere amici, che contano, sono le comuni origini, la lingua a volte è il dialetto comune, la formazione, lo humor e gli obiettivi. Quando metti assieme questa miscela, le persone si assolano, se no non si mollano quasi mai. Che bella questa cosa. Invece al contrario la solitudine è un grande problema, è un grande problema di salute anche mondiale. L'OMS lo ha stabilito, le persone sole hanno una vitalità e una sopravvivenza inferiore e addirittura il Regno Unito da tre anni ha istituito il Ministero della Solitudine. Il 50% delle persone nelle aree metropolitane del mondo sviluppato sono sole. Ecco. Un'immagine è un'immagine scientifica che rappresenta i cerchi in cui possono essere rappresentati gli amici, al massimo 150. I cerchi differenziano per un fattore moltiplicativo 3. Gli amici del cuore sono 1 barra 2, cioè 1 e mezzo. Poi ci sono gli amici intimi, sono 5, ci sono gli amici diciamo affezionatissimi che sono una cinquantina. I migliori. I migliori. Ecco. Gli amici cari sono 15. No, sono 15. 15, gli amici cari sono 50 e poi abbiamo gli amici in senso lato 150. Dopodiché sono conoscenti ed è stato anche calcolato che noi riusciamo al massimo a riconoscere visi e fisionomia associata a noi di 1500 persone. Ma cosa è della mia vita in rapporto all'amicizia lo stabiliscono i cinque amici del cuore. Quindi il secondo cerchio. Il secondo cerchio. Quello è proprio il senso di amicizia o di solitudine a seconda che ci siano o meno quegli amici. Quello che succede in quell'ambito si riflette assolutamente su di noi. Ecco, allora creare un'amicizia richiede sicuramente la conoscenza ma anche del tempo. Quanto ci vuole in media per stabilire un'amicizia? L'amicizia è un consolidamento di circuiti nervosi e un consolidamento addirittura di assetti ormonali. Ci vuole sforzo e tempo. Alcuni studiosi sono dilettati in questo e si è visto, per esempio, che in soggetti giovani nell'ambito di tre mesi occorre avere 200 ore faccia a faccia per poter passare dallo stato di sconosciuti allo stato di amici. Vuol dire due ore e mezzo quasi al giorno, sette giorni su sette. L'amicizia regge anche molto. È stato anche calcolato che nelle persone giovani possa reggere fino a otto anni quando non coltivata. Le amicizie dell'uomo e della donna sono diverse. La donna ha un circolo di amici intimi più vasto di quello dell'uomo. Riesce a tenerli attivi a distanza, telefonate, lettere, ma sono più fragili. Mentre invece l'uomo ha meno amici intimi, deve mantenere l'amicizia con lo sport, tipicamente o mandando assieme loro, ma poi regge maggiormente nel corso del tempo. Ecco, quindi le amicizie maschili hanno più tenuta di quelle femminili. Sì, anche se nell'ambito del circolo più interno sono in genere meno numerose. Allora, gli amici si assomigliano nei comportamenti e la pensano nella stessa maniera? Questo è fantastico, c'è anche il proverbio, chi si assomiglia si piglia. C'è una spiegazione scientifica. In realtà gli amici non solo la pensano nella stessa maniera, ma spesso si muovono e parlano nella stessa maniera. Pensa che è stato valutato come si usa più spesso tra amici il dialetto, come se fosse una dimostrazione di origine controllata. Perché il dialetto vuol dire non solo che viene dalla stessa regione, ma che ci sei proprio nato, perché non si apprende. Questo che vedi qui è uno studio sensazionale. Hanno fatto vedere delle videoclip a degli amici e poi a degli amici più lontani. Vedi le aree un pochino più color rosso mattone? Vuol dire che tra amici inconsapevolmente si sono accese le stesse aree del cervello, più diluito invece negli amici degli amici. Quindi vuol dire davvero che c'è una consonanza di emozioni che non sappiamo se sia alla base dell'amicizia o il risultato dell'amicizia. Però si può soffrire molto per un amico o anche gioire per un amico. Sì, perché l'amicizia ha questo effetto specchio di contagiosità. Pensa che c'è uno studio di tipo vascolare, lo studio Framingham, il quale ha dimostrato che la nostra possibilità di essere felici, di essere depressi o di essere obesi dipende anche da com'è il nostro amico. E attenzione, la possibilità di contaminazione dell'amicizia, positiva o negativa, è del 25% se l'amico abita ad almeno un miglio, è uno studio inglese, o del 34% se è il vicino di casa. Quindi influenza moltissimo l'amicizia anche sulla base di quanto fisicamente il tuo amico sia il tuo vicino di casa, ad ombrellone o quello che sia. E influenzano così tanto, quindi è proprio vero quando si dice ai ragazzi da giovani che è molto importante, che stabiliscono delle amicizie, che siano positive, che siano trainanti. L'amicizia rappresenta un grande vantaggio evolutivo perché gli amici fanno un gruppo, il gruppo fa una lange macedone, si schiera a difesa dei propri ideali e della propria identità. Ecco, perché ci viene spontaneo abbracciare gli amici? Perché si libera un'enormità di ossitocina, di endorfine e di altre catecolamine. Gli animali, si crede che gli animali abbiano amicizie dal delfino, l'elefante, insomma quelli che vivono di più, si strisciano tra di loro perché alla base del pelo ci sono delle fibre, chiamate fibre C, che quando sono stimolate liberano endorfine. La mamma che accarezza il figliolino piccolo gli comunica questo, non solo gli fa sviluppare bene il cervello e questo spiega come mai alcuni bambini che sono stati abbandonati da piccoli possono avere qualche problema anche di tipo cognitivo e non solo temperamentale da grande. Ecco, allora i tempi che stiamo vivendo ripongono il tema del distanziamento sociale, è davvero una cosa così tremenda, no? Il distanziamento sociale è struggente, noi lo cerchiamo un po' di superare utilizzando anche i media, non so, il videochiamate o Skype. Però, attenzione bene, le persone molto socievoli, quindi che fanno molto amici, hanno molto sviluppato un'area che si chiama amigdala, che è l'area della paura e del tenerti a distanza. Qua vedete è stato anche calcolato. Sembra quasi un controsenso. Però è fino a un certo punto controsenso, perché è la persona che sa fare amicizie, sa avere le giuste distanze. Come se monitorasse l'ambiente. Eh sì, e quindi oltre un certo limite, ecco, 64, 0-64 metri, quindi 64 centimetri è la minima distanza a cui si mettono gli amici tra di loro, fatto salvo quando si abbracciano. L'uso dei social ci fa avere più amici? No, abbiamo sui social gli stessi amici nella vita, non solo, fraseggiamo sempre con i soliti 5 o 15 amici che sono quelli del cuore o quelli migliori. Grazie Piero, è stato molto interessante. Grazie a te, Sveva. Grazie a Piero Pervanti, grazie davvero. Sono un urologo bravissimo dell'Istituto Scientifico San Raffaele, Pisana di Roma. Grazie a tutti.